Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qui dopo aver visto la strategia 4-3-3 basata sul modificatore difesa questa sera andiamo a vedere quella del 3-4-3 quando va applicata, quando non abbiamo il modificatore difesa o quando abbiamo un modificatore difesa depotenziato ad esempio quei modificatori che vi danno 1, 2, 3 punti sono appunto depotenziati e allora, in questi casi, che siate in 6, che siate in 8 o in 10 giocatori il mio consiglio è quello di applicare un 3-4-3 alla vostra rosa come si gestisce il budget in un fantacalcio senza modificatore o con un modificatore debole? beh, tra porta e difesa non andrei a superare il 20% del budget a centrocampo non supererei il 20% e metterei circa il 60% del budget per quanto riguarda l'attacco adesso andremo a vedere nel dettaglio porta, difesa, centrocampo e attacco come andarli a costruire e quanto spendere per ogni singolo slot per quanto riguarda i portieri, un errore da non fare anche in un fantacalcio dove non abbiamo il modificatore difesa è quello di andare a risparmiare sul portiere, sul primo slot bisogna comunque prendere un top, soprattutto in quei fantacalci dove siamo almeno in 10 giocatori quindi qui non cambia nulla rispetto all'ipotesi con modificatore difesa andiamo a prendere un top e la sua riserva per quanto riguarda il terzo slot valgono gli stessi dubbi, gli stessi pro e contro che abbiamo già visto nel video di oggi meglio un titolare di una piccola come terzo slot o il terzo del big qui dipende da quando finirà il vostro fantacalcio mi ripeto, se fate un fantacalcio che finisce all'ultimo o al penultimo turno il mio consiglio è quello di avere il pacchetto completo di una big viceversa, se fate un fantacalcio che finisce 3-4 giornate prima rispetto alla fine della Serie A allora potete anche permettervi di avere come terzo slot il titolare di una medio-piccola che durante la stagione potrebbe rivelarsi un'ottima pedina di scambio per quanto riguarda la spesa totale non andrei a superare il 10% del budget ovviamente poi qui bisogna vedere se anche senza modificatore avete magari il clean sheet in ogni caso nelle leghe senza modificatore o con modificatore debole i prezzi dei portiri sono ovviamente leggermente più bassi rispetto alle leghe con modificatore difesa importante la difesa non essendoci modificatore è sicuramente il reparto meno importante andiamo ad acquistare 3 lance da bonus devono essere giocatori importanti che durante la stagione possono permetterci di avere diversi assist e diversi goal non necessariamente però abbiamo bisogno di top meglio avere 3 lance con una spesa massima del 7% circa del budget ognuno dei quali magari ci porterà in dote 2-3 goal piuttosto che avere il classico top da potenziali 5-6-7 goal e poi avere il nulla intorno quindi andiamo a prendere 3 lance da bonus un paio di underdog che potrebbero rivelarsi delle piacevoli sorprese strada facendo e andiamo a completare il pacchetto dei difensori con due titolari low cost che ci eviteranno durante l'annata di giocare uno in meno e una scommessa che soprattutto in questo caso può sempre farci comodo perché magari poi partita dopo partita va a scalare le gerarchie della nostra difesa come avete visto non vi ho messo alcuno scudo perché? perché ovviamente non essendoci il modificatore è inutile andare a sprecare budget su quei difensori che hanno ottime medie voto ma che poi in termini di bonus ci portano ben poco quelli lasciamoli ai nostri avversari anzi andiamo a sfruttare il meccanismo dell'esca in questo caso andandoli a far spendere soldi in questo caso inutili su difensori che appunto garantiscono ottime medie voto ma non bonus poi ovviamente dipende dalla situazione è ovvio che se viene chiamato uno scudo top e sta andando al 2% se lo andiamo ad acquistare male non facciamo però diciamo che in generale i nostri obiettivi in questo tipo di fantacalcio devono essere diversi devono puntare soprattutto ai bonus e meno ai voti positivi la spesa massima di questa difesa non deve assolutamente superare il 10% del budget come vedremo a fine video ci sono anche alcune varianti che possiamo applicare qualora decidessimo di applicare una strategia leggermente più rischiosa ma allo stesso tempo anche più offensiva potremmo anche risparmiare ulteriormente sul reparto della difesa che ripeto in questo tipo di fantacalcio essere il meno importante tra tutti come per il video col modificatore difesa vi porto per quanto riguarda il centrocampo due ipotesi una senza top e una con il top nella prima ipotesi senza top andiamo a formare il nostro centrocampo con due semi top nel primo e secondo slot andiamo a spendere al massimo circa il 15% del budget altri quattro slot devono essere occupati o da underdog o da scommesse quello che è importante è non superare il 4% del budget andiamo a completare il settimo ottavo slot con due titolari low cost che anche qui hanno il compito di non lasciarci dei buchi durante la stagione la spesa massima di questo centrocampo non deve superare il 20% questo perché? perché anche in una lega senza modificatore dobbiamo sempre ricordarci che il centrocampo è il reparto dove possiamo andare a fare colpi importanti soprattutto in ottica bonus senza per forza di cose andare a spendere troppi soldi troppo budget su uno o due giocatori quindi andiamo a diversificare il rischio non andiamo a concentrare il nostro budget su uno o due top ma cerchiamo di andare a pescare appunto su più giocatori sapendo che magari un paio andranno a flopare ma che sicuramente se abbiamo fatto le cose per bene un paio di nomi che poi si riveleranno essere durante l'annata degli ottimi colpi li possiamo sicuramente fare quanto andare a spendere per un centrocampo di questo tipo? al massimo il 20% ad alcuni potrebbe sembrare una percentuale bassa senza modificatore ma ricordatevi ragazzi che sia che ci sia il mod sia che non ci sia il centrocampo resta il reparto dove fare i colpi più importanti senza per forza di cose spendere molti crediti ne abbiamo parlato tantissimo nelle ultime due stagioni andatevi a vedere quanti nomi a inizio anno erano sottovalutati e quanti poi sono diventati dei top durante l'anno e allo stesso tempo quanti top a centrocampo si sono poi essere rivelati dei mezzi flop durante l'anno quindi mi raccomando oltre il 20% io non andrei poi ovviamente se spendete il 21% se spendete il 19% poco cambia ma non andrei a superare la spesa del 20% ovviamente però essendo un fantacalcio senza modificatore difesa dobbiamo anche prendere in esame l'ipotesi con il top a centrocampo avere un top in questo caso non è un errore e quindi la seconda ipotesi prevede anziché due semi top avere un top come primo slot e un semi top come secondo slot ovviamente la spesa resta quella del 15% circa per questi due slot vorrà dire che spenderemo circa il 10% per il top mentre andremo a pescare uno dei semi top più bassi intorno al 5% i quattro tra underdog e scommesse restano sempre fissi come restano fissi ovviamente i due titolari low cost come vedete anche in questo caso spesa massima 20% del budget anche qui se poi spendete il 21% non succede nulla ma cercate di restare indicativamente intorno al 20% del budget ovviamente ragazzi arrivati all'attacco sappiamo che nelle leghe senza modificatore difesa l'attacco diventa ancora più importante per questo motivo il primo slot è ancora più da non sbagliare in questo caso qui possiamo spendere un po' di più rispetto all'ipotesi con modificatore difesa e quindi la nostra spesa per il primo slot va dal 30 al 35% del budget andiamo a prendere un secondo slot anche qui meglio se rigorista massimo 15% del budget alziamo la spesa per quanto riguarda il terzo e quarto slot rispetto al video di oggi delle 13.30 e quindi possiamo permetterci di spendere anche tra il 9 e l'8% del budget andiamo a prendere un terzo slot sicuro affidabile che ci potrebbe garantire una doppia cifra bassa più un underdog dal buon potenziale andiamo a chiudere il reparto o con due scommesse o con una scommessa e con un giocatore che apparterà alla nuova tipologia che andremo a scoprire tra qualche giorno tra qualche video la spesa massima per l'attacco ovviamente viene alzata rispetto all'ipotesi con modificatore difesa e possiamo permetterci di spendere per l'attacco anche un 60% circa del budget poi se mi dite guarda nella mia lega i difensori, i centrocampisti vanno a un prezzo molto più basso di quello che hai detto tu in questo video e da me arrivano tutti col 70% del budget ovviamente ragazzi qui entriamo nel discorso del budget relativo e non più nel discorso di budget assoluto ne parleremo ampiamente in altri video è ovvio che in questo caso dovrete tenervi un po' più soldi per il vostro attacco magari non proprio il 70% ma il 65% sì, allo stesso tempo se gli altri spenderanno meno negli altri reparti magari potrete fare un po' di più la differenza in porta e a centro campo ovviamente ragazzi come vi anticipavo poc'anzi ci sono anche alcune varianti a questo modello sempre a seconda della lega in cui vi trovate ad esempio la difesa anziché essere costruita con una spesa intorno al 10% si può fare benissimo con un 5% sia se i prezzi da voi sono molto più bassi sia se decidete di rinunciare a un paio di lance importanti da bonus ripiegando su titolari low cost e underdog bassi dai bonus potenziali in questo caso ovviamente andremo ad aumentare la spesa a centro campo o in attacco o in entrambi i reparti allo stesso tempo possiamo decidere di fare un centro campo comunque con il 15% un po' quello che dicevamo nel video di oggi delle 13.30 ma a quel punto andiamo a investire pesantemente davanti e magari potremmo applicare la strategia del doppio bomber strategia che già dovreste conoscere ma che poi ovviamente andremo a riprendere in uno dei video dei prossimi giorni errori da non fare in questo fantacalcio lo dicevo prima rinunciare al top in porta anche senza modificatore il top in porta resta fondamentale soprattutto se avete il bonus del clean sheet e altro errore assolutamente da non fare ok prendere il top in difesa DC se va a un prezzo bassissimo ma non andiamo a sprecare budget sui difensori da modificatore difesa i difensori da modificatore difesa sembrano a banalità ma vanno comprati nei fantacalci con il modificatore difesa classico o dinamico se avete un modificatore depotenziato o addirittura non avete il modificatore non fate l'errore di costruire una difesa da mod ripeto è una banalità ma tante volte mi è capitato di vedere squadre con Koulibaly Bremer Delict Screener poi chiedevo che tipo di modificatore difesa hai e la risposta era non ho il modificatore spesa totale 10 12 15% budget sprecato quella difesa va benissimo se c'è il modificatore ma se non ce l'ha dovete andare a spendere da altre parti ragazzi anche per questa sera è davvero tutto io vi saluto vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like al video se non l'avete ancora fatto io vi aspetto come sempre domani ore 13.30 con un nuovo video dedicato alla guida all'asta 2022-2023 grazie mille ciao a tutti e alla prossima ciao